Siamo negli anni 60, un carpentiere saldatore lavora in officina e a bordo delle navi. Con il passare del tempo si ammala, il referto è mesotelioma pleurico dovuto all'esposizione all'amianto. Nel 2009 il decesso del signor Giancarlo ha 71 anni, i familiari hanno intentato una causa civile e il Tribunale di Livorno ha deciso, fin cantieri dovrà pagare come risarcimento 650 mila euro. L'amianto, un materiale che in passato era presente nei cantieri, fibre sottili che secondo la perizia erano presenti nelle coibentazioni, nelle tubature del vano motore e in altri luoghi che l'uomo viveva quotidianamente. Non è un caso isolato, per questo è nato il fondo vittime amianto che contribuirà con un altro importante apporto economico. Nel mese di dicembre scorso un'altra sentenza che ha condannato nuovamente fin cantieri al risarcimento di 500 mila euro ai familiari di un operaio morto a 79 anni per cancro ai polmoni, sempre a causa dell'esposizione all'amianto.